Il LATAR del Lazio ha concesso la sospensiva del piano del commissario straordinario Giuseppe Silletti nella parte in cui dispone l'eradicazione degli ulivi che si trovano nel raggio dei 100 metri rispetto a quelli infetti da xylella fastidiosa e il batterio che ne provoca il dissecamento. Le ruspe non potranno intervenire quindi fino al prossimo 16 dicembre, data in cui sarà discusso il merito di tutti i ricorsi formulati. La sospensiva ha valore solo nei terreni di quanti hanno formulato l'impugnazione che si trovano a Doria, Torchiarolo e Cellino San Marco. Non è stata invece accolta a medesima istanza di stop agli abbattimenti avanzato dal Consorzio di Vivaisti Salentini riguardo alle limitazioni e alla commercializzazione delle piante ospiti. A quanto argomentato dai giudici amministrativi, negli atti dirigenziali del 16 e 19 ottobre scorso con cui si attua il piano di interventi anti-xylella, emergerebbe una presunta contradditorietà da quanto previsto dall'articolo 8 che prevede l'esterpazione delle piante nel raggio dei 100 metri e quanto previsto invece dall'articolo 6 riguardo ai trattamenti fitosanitari preventivi.